il randaggismo e anche per questa ragione noi abbiamo aperto la finestra sul randaggismo, una rubrica, un momento fisso di dalla parte degli animali per dare voce a tutti quegli eroi che nel silenzio dell'Italia e nell'inadempienza delle istituzioni aiutano i giandaggi del mezzogiorno. Ciao a tutti, mio nome è Daniela Gironda.